Sei un uomo molto fortunato, Eric. Sei l'orgoglioso possessore di molti doni. E' il tuo sacrosanto dovere farne buon uso. Papà ha ragione. Corri come sai correre, con forza e lealtà. E la missione non potrà che guadagnare dal tuo successo. Tornerà utile un campione cristiano che riesca a destare gli entusiasmi della gente. Sei veramente così veloce, Eric? Sandy pensa che entro un mese correrà per la Scozia. Dopodiché non ci sono limiti. Cosa vuoi dire? Forse i giochi olimpici. Eric, puoi glorificare Dio sbucciando una patata se la sbucci a perfezione. Ma hai compromessi. Il compromesso è il linguaggio del demonio. Corri nel nome di Dio e lascia che il mondo ti guardi ammirato.